buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog allora iniziamo il vlog con questa con queste formine questo qui è il budino che hanno fatto le bambine ieri e negli stampini così in silicone dei muffin si possono sformare e rimane la forma così potrebbe essere anche carino per i bambini magari lo mangiano più volentieri oppure se si magari viene a mangiare qualcuno a cena si vuole fare un dolce un po particolare perché poi con quelle salsine che abbiamo preso per il gelato anche magari in uno così alla vaniglia che è sostanzialmente semplice magari si può fare una decorazione con una salsina tipo al pistacchio così e secondo me sarebbe carino queste qua adesso le ha sformate giadina per mangiarle e visto che me le ha portate sono venute proprio bene devo dire che pensate quello col caramello una volta rovesciato col caramello che cola tutto quanto giù bisogna magari lasciarlo un minutino lì la formina capovolta in modo che il caramello scende bene però c'è comunque una cosa molto carina invece della solita formina in alluminio queste qui sono comunque riutilizzabili le porzioni sì forse sono un po piccoline però magari se uno fa un piatto di due o tre gusti di budino comunque viene una cosa carina secondo me e basta già iniziato parlando tantissimo adesso sarà meglio che cominciamo a fare il caramello è tornata già da anche con la castellina al caramello e devo dire che secondo me è veramente veramente molto carino come viene si può anche fare con di budini quelli di diversi colori c'è quello al pistacchio alla fragola cioè secondo me essendo porzioni piccole verrebbe una cosa carina a noi sono venute nuove formine vero di ogni gusto quindi verrebbe una cosa carina anche da fare come dolce magari per un pranzo una cena così si fanno nove formine di ogni colore poi si fa un piatto dove si mettono una formina di ogni colore e cioè secondo me viene carina sì di una cosa non sono riuscita parcolare il caramello perché appena l'avevo messo giù ho tirato sulla formina il caramello era già andato giù quindi non era ma comunque vedi che c'è sopra si vede sopra la stellina che c'è il caramello comunque un'idea carina e basta smetto di parlare e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E basta, questo qui sarà il nostro pranzo. E voi invece cosa avete mangiato oggi che è mercoledì per pranzo? Ah, Gabriele invece sta mangiando due uova con insalata e pomodori. E niente, fateci sapere cosa avete mangiato voi. Adesso mangiato. Grazie a tutti. 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 dei grandi diciamo, con una tasca così, e questo qua lo userà per metterci le penne, la gomma, il temperino, il righello e queste cose qua. Invece quest'altro, che è fatto uguale, davanti e dietro, e poi ha due tasche invece qui, e qui metterà in uno i pennarelli e nell'altro i pastelli. E così Sabrina è a posto, le servono solo questi due astuccini. Invece quello per Giada. Che io vi sto prendendo già le tasche. Va bene, non li dai, però? Io seguo le tasche, le tasche a te. Quello di Giada invece, va bene, è fatto sempre, va bene, qua ci sono gli insieme, è fatto sempre davanti così, con loro il nome, e dietro sempre i due. Il dottor Gini e il dottor Tini. Che sono tutti e due cattivi, no? Sì, sono i cattivi che uno c'era già, poi visto che si è spruzzato tanto profumo, poi era venuto poi anche lui. Va bene. Qui dentro, le tasche sono così, la prima ha matita, penne, righello, gomma, temperino e forbici. Ovviamente qualche cosa tipo le penne le devo levare a Giada perché lei usa quelle cancellabili. Poi, guardate, sopra le fornici ci sono i numeri. Sì, non so, viene da dove serve. Poi invece, nella seconda cerniera ci sono i pastelli che, come facevano a notare, loro hanno, come potete vedere, c'è scritto d'insieme. Ecco, d'insieme. E poi si può mettere il nome. E poi nell'ultimo ci sono tutti quanti ancora da temperare. Non hanno la punta. E poi invece, nell'ultimo ci sono i pennarelli che, come i pastelli, hanno la scritta d'insieme. Solo che questa qua c'erano scritta grande e anche piccola. E anche qua si può mettere il nome. C'è scritta se grande e se piccola la scritta d'insieme. Ci sono i pennarelli base che servono, diciamo, per un anno scolastico. Adesso vedrò poi come andare a scrivere sopra a questo posto, così almeno li temperiamo, li mettiamo il nome e sono a posto. Quindi questi qua sono, diciamo, i primi acquisti, oltre allo zaino di Gabriele, sono i primi acquisti che abbiamo fatto per la scuola. Anche perché in realtà non è che c'è molto altro da comprare, nel senso che i diari, loro, tre piccoli, ce l'hanno della scuola dell'istituto. No, tre. Perché Gabriele va ancora nello stesso istituto, comunque. Ah, è vero. Invece devo comprare il diario per Manuel e Giorgia, ma quello lì lo prendiamo al Bennett con l'offerta che c'è. Ho anche il grigio. Sì, con l'offerta che c'è che ti dà un buono spesa. Quindi appena partirà l'offerta li andremo poi con i ragazzi a scegliere i diari. Per adesso volevo farvi vedere questo. Se mi ricordo vi lascio, non gridare, vi lascio nell'info box, se mi ricordo vi lascio nell'info box i link per arrivare direttamente alle tre cose che abbiamo preso noi dell'insieme. Così, se vi interessa, li potete prendere anche voi. E niente, adesso giro la telecamera e vi aggiorno su quello che è venuto, perché è venuto il signore dell'anno. Mi sono dimenticata, anche questo l'hanno detto nel video. Guardate, tutte le cerniere hanno anche queste nome d'insieme. Non ho detto. Io l'avevo visto. Guardate. E poi c'è anche, ci sono anche... Sì, ma quella lì era a staccare. Lo so, ma ci sono solo... E' bellissimo. Veramente, veramente bello. Veramente belli, mi sono piaciuti. I prezzi non sono neanche esagerati. Esorbitati. E quindi, per quello che glielo ho presi. Perché avranno dei prezzi abbastanza normali. Adesso per Sabrina dobbiamo prendere tutto il resto. Quindi pastelli, pennarelli e tutto quello che va all'interno dell'astuccio. E boh. Va bene. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho già steso stamattina. Devo ancora arrivare altra roba dalla lavatrice. Così almeno poi completiamo questi fili. Anche se il tempo non è proprio dei migliori. Però devo stendere lo stesso. Allora, siamo nella stanza per iniziare ad andare l'antimuffa. Ma prima volevo dirvi, ieri è venuto il signore della botola e ha detto... Vabbè, a parte che nella scala c'era incastrato un nido di vespa secco, però comunque c'è. E poi ha detto che adesso provo a fare il preventivo per due preventivi. Uno per cambiare anche proprio la scala e uno, se riesce, per cambiare solamente il pannello che è quello che interessa a noi. E la chiusura perché è arrugginita. Quindi, aspetto questi preventivi e poi vediamo un attimino. Ovviamente se si potesse cambiare solo la boccia, solamente il legno e la chiusura, sarebbe decisamente meglio piuttosto che cambiare tutto quanto anche la scala. Visto che comunque la scala è ancora buona. E niente, quindi questo qui è l'aggiornamento di quello che ci ha detto il signore. E adesso andiamo a dare questo antimuffa, tutto dove va dato. E via. Gabriele mi ha portato sulla scala, se no non ci arrivo in alto. E adesso vi faccio vedere tutte le cose che abbiamo preso per dare il bianco, per poi dare lo smalto, eccetera, eccetera. Allora, come antimuffa abbiamo preso questo qui, fissativo isolante antimuffa, poi questo qui è lo smalto nero per gli zoccolini, poi qua ci sono pennelli e pennellini. E' questo che mi serve perché devo cambiare appunto il lampadario che c'è adesso e devo mettere un portalampada affinché poi non mostriamo, abbiamo finito tutto e montiamo i faretti. Scocci di carta, qui c'è vaschetta con rullino piccolo. Le spatole per levare dove va levato, qui ci sono i teli, in questo secchio lo avevamo già, poi qui ci sono altre spatole di diverse misure, perché qui sopra non tanto, ma di sotto ne avremo bisogno una per una, perché c'è da levare dappertutto. E questo qui invece è lo sgocciolatoio di questo secchio, poi qui c'è un altro mini rullino. Ah, abbiamo dimenticato il rullo grande e, vabbè, l'antoggio non ci serve, e il bastone. Altro scoccio di carta perché dobbiamo fare un tanto. Poi qui c'è il primer, praticamente il fondo per gli stipiti delle porte e qui il colore che abbiamo scelto per rifare gli stipiti. Io volevo farli super super colorati, ma Maurizio ha detto, ma no, non esagerare. Alla fine abbiamo scelto un color crema, la carta vetro che ci serve poi per andare a grattare gli stipiti. Qui c'è lo stucco per i vari buchi, eccetera, eccetera. E qui c'è il porta lampada per, appunto, che adesso dobbiamo poi cambiare. E basta, questo qui è tutto quello che abbiamo acquistato. C'è ancora il rullo grande, il bastone e poi dovrebbe esserci un altro rullino piccolo. No, un altro rullino piccolo. Ah, di questo? Adesso poi lo andiamo a scovare e basta. Quindi adesso noi ci mettiamo all'opera, ovviamente in tutte queste opere voi sarete insieme a noi. Alla fine. Alla fine. Basta che si proggia. Alla fine. 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 Buonasera. Allora è tardissimo. Manca 20 a mezzanotte. Devo andare a dormire. pia mi sono fatta una doccia perché non ce la facevo più e oggi come avete visto è stata una giornata piena e domani sarà anche peggio perché non trovo più il rullo grande e quindi nell'attesa che lo trovo userò quello piccolo perché cosa devo fare e niente poi altrettutto abbiamo anche dovuto cambiare progetti e quindi dovrò spostare cioè dobbiamo mettere tutto in un'altra posizione perché oggi è venuto il signore nelle stufe e ci ha detto che dobbiamo fare delle modifiche perché così non va bene e quindi niente quindi devo anche cambiare quello che stavo pensando di fare non una cosa che possa andare dritta una volta comunque ho scritto anche la mia nutrizionista perché gli ho chiesto ho sbagliato io pensavo che andasse bene così schema nutrizionale come aveva fatto con manuel però in realtà mi sono accorta che per me non va bene io non riesco a star dietro a poi a fare le cose giuste bilanciate allora le ho chiesto se per piacere poteva crearmi lei il menù come fanno tutti i dietologi quasi tutti i nutrizionisti quindi di dirmi lei cosa devo mangiare tipo lunedì a colazione a pranzo a cena poi il martedì poi mercoledì così per vedere se così riesco a seguire un pochettino meglio e adesso visto che deve ancora sentire il mio vocale speriamo che mi dice di sì che accetta perché lei tra poco va poi in maternità e quindi poi è un casino e quindi spero che accetta glielo ho detto di farlo tranquillamente però se poteva cambiarmela e farmela così perché penso che potrebbe andare meglio riuscire a seguirla un pochettino di più e niente per il resto non ci sono altri aggiornamenti e la situazione di sotto è veramente grigia 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 perché nonostante avete visto abbiamo fatto diecimila sacchi di vestiti continuano a esserci esagerata c'è una quantità esagerata di vestiti che poi in realtà non sono esagerati sono rivolti più che altro alle bambine piccole perché in genere manuel e giorgia le cose che si mettono sono sempre le stesse anche gabriele non è che pullula di vestiti più che altro sono sabrina giada e pia quindi adesso devo cercare di scremare anche giada abbiamo portato su un sacco di magliette però le ho detto ci mettiamo lì assieme te ne metti dieci davanti poi cinque le tieni cinque le butti e facciamo così perché se no veramente non c'è ha 252 magliette che non riesce neanche a mettere tutte ora parte quelle canottiere che mette ora e poi con l'inizio della scuola non metterà più però anche le magliette a maniche corte se fanno ginnastica la fanno una volta a settimana c'è quello che ti servono 20 olivia vai via dalla pappa del micio cosa servono 20 magliette se tanto per ginnastica una volta a settimana quindi volevo fare un timino un po di scrematura comunque abbiamo fatto un po di lavoro anche di sotto proprio perché l'antimuffa ha bisogno di 24 ore per asciugare bene e quindi niente quindi adesso io vado a dormire la cucina sono sincera è da fare ma proprio un mal di schiena pazzesco non ce la faccio più mi sono fatta la doccia e sono già di nuovo sudata di nuovo caldo quindi non servita niente sono venuta qui per salutarvi anche per chiudere il video perché comunque deve uscire domani che venerdì e quindi poi domani ci sarà tutta l'altra parte e quindi finalmente questa pittura su questo muro ce la facciamo a darla ma tanto la differenza si vedrà tantissimo perché sono almeno due anni che non lo diamo e quindi secondo me la differenza si noterà proprio così in un batter di ciglia perché comunque veramente si vede che il muro è sporco quindi e e niente quindi adesso io vado grazie per tutti i commenti grazie per tutto quanto grazie ai nuovi iscritti benvenuti spero che il nostro canale vi piaccia spero che noi vi piacciamo e come vedete sono io patisco tantissimo il caldo poi sicuramente la situazione fisica in cui sono me lo fa patire ancora di più e quindi faccio fatica veramente a tenere i vestiti addosso sinceramente perché fa proprio caldissimo e comunque spero che questi video vi piacciono e niente vi saluto vi mando un bacione ci vediamo lunedì con un nuovo video ciao ciao